Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare la prima, e penso unica se non mi sbaglio, espansione che è uscita per Space Alert. Space Alert a cura della Zek Games, che noi ovviamente ringraziamo di cuore per averci offerto una copia per la recensione. E grazie ragazzi, è sempre un onore collaborare con voi. L'espansione si chiama The New Frontier ed è l'espansione per il gioco di Space Alert, di cui vi ricordo, nota video comunque andate a vedere sul canale, abbiamo già fatto una cosa ne penso, una video recensione. E questa espansione, tra l'altro, mi ricordo quando la feci presente, la presentai, feci una foto nel gruppo di giochi da tavolo su Facebook, tante persone non la conoscevano. E noi rimasero stupiti perché dissero, aspetta, a me Space Alert come gioco spaziale è piaciuto da morire, anzi, uno dei giochi mi è piaciuto maggiormente, ma c'ha un'espansione. E io ho detto, sì, c'ha un'espansione, però se non erro, poi ci sta che sbagli, in Italia non l'hanno mai portata, non è tradotta The New Frontier, ma hanno detto, ma c'ha un'espansione, la ordino subito. E infatti non lo sapevo nemmeno io. E quando li contattai per chiedere una coppia della recensione del gioco di base, del core game, mi dissero, guarda, se vuoi c'ha anche l'espansione The New Frontier. E gli dissi, mandamela. Anche perché inserisce tante cose nuove che secondo me sono veramente interessanti. Comunque vi faccio vedere un po' cosa c'è all'interno. Unboxing. Scatola del gioco, al solito grande come l'altra, non di più, non di meno. Ed è bellino anche il disegno che c'è sopra, lo vedete nel classico stile appunto di Space Alert. Apriamo. Regolamento di gioco. Bello cicciotto, eh, vi devo dire. Ovviamente non tradotto. Bello cicciotto come regole, c'è tante cose, ma perché questo gioco inserisce delle carte, degli eventi e delle situazioni particolari che quantomeno necessitavano di una spiegazione un pochino più approfondita. Comunque, diciamo, se conoscete le regole del gioco, la prima parte la potete sartatuta perché praticamente ve le rispiega e il resto sono qualche aggiunta che poi vi faccio vedere. Nuovi threats e nemici. Addirittura si va anche qui nei vari livelli come avete visto poi nel gioco di base. Si va da nemici facili comunque tipo gli stealth all'inizio delle prime missioni a nemici molto più potenti e articolati. E anche qui ci sono un bel po' di carte nuove. Vedete il manualetto di loro, insomma, se volete dare un'occhiata ai giochi editi dalla ZEC, e guardate un pochino, CD con le tracce audio, che ovviamente non potete giocare se non l'avete. Ora mi sarei aspettato forse, perlomeno era più bellino, arrivati a fare un'espansione e farci un'app più che un CD. Perché un CD sì, va bene, la scorti, senti, c'è bisogno ragazzi di un'app. Però vi immaginate bellino, vedete anche la grafica col sistema tipo Mother di Alien che si accende, manda dei messaggi. Però vabbè, comunque è una cavolata. 10 nuove missioni, fogliettino e repelogativo con tutti gli achievement. Per chi come me gioca a Steam, su Steam sapete che sono tutti quanti dei premi, tra virgolette, che potete sbloccare e riconoscimenti a secondare come avrete finito le missioni. Insomma, sono un po' come dire titoli di pregio. Tacche sulle ali. E poi, di qua, schede in cui potete segnare l'esperienza del vostro equipaggio. Perché ora, più che mai, su Space Alert si inseriscono non soltanto i ruoli a bordo, c'erano già prima il capitano, vi ricordate il soldato e quant'altro. Però l'hanno voluto portare, ora non mi fraintendete, ma comunque leggermente più verso un ambiente GDR. E in un ambiente GDR ci deve essere per forza una progressione. Quindi, mano a mano che andrete avanti nel corso delle vostre avventure e missioni, i personaggi passeranno di livello e avranno delle cose in più. E' anche una cosa bellina, anche e soprattutto per tenere conto del punteggio finale a fine missione e dire che ne so. Eh, sono passato di livello, oppure semplicemente ho finito la missione con questi pregi rispetto alla partita prima. Che non sembra, ma dà uno spessore di fondo e una rigiocabilità veramente, secondo me, alta. Token vari. Vedete, ci sono nuovi simboli. E poi, di qua dietro, ci sono tutti quanti i nuovi simboletti che vanno usati per le azioni a bordo della nave dei vostri personaggi. E questi qua giù, che sono nuovi nemici che potrebbero sbarcare a bordo della vostra nave, come vi ricordate i soldati, i droni e quant'altro. Come detto, c'è il nuovo CD con 10 nuove missioni che io vi consiglio spensieratamente di giocarle dopo aver fatto quelle principali. Quindi, per quante giochi si combinano insieme tranquillamente, però fanno parte anche di un'avventura e di una campagna tutta insieme ed è più bellina, prima fate quelle di partenza e poi dopo giocate queste. Anche perché queste sono leggermente più difficili rispetto a quelle passate e inseriscono tanta carne al fuoco in più. Quindi magari inseriscono il fatto dell'esperienza dei personaggi, come vi ho fatto vedere precedentemente, ma inseriscono anche nuovi nemici che potrebbero sbarcare a bordo della vostra nave. E non contenti anche fuori dalla vostra nave, perché ci sono nuovi incontri come navi spaziali e cose varie. Navi sicuramente 10 volte più grosse della vostra. E, insomma, vi capita una cosa del genere. Se siete alle prime armi rischiate veramente di perdere la partita. Mezz'ora per il setup e 10 minuti per perderla. Quindi, consiglio spensierato, giocate prima le altre avventure. E poi, tra le tante regole, ma che comunque sono tante, ma semplici da tenere a mente perché ci sono tante cose nuove, ci sono varie regole sulle carte che vedete. Le carte sono le stesse del gioco base, quindi carte azione, fronte e retro, vi ricordate, per vedere se avete scelto un movimento o se avete scelto un'azione. Se avete scelto un movimento o un'azione. In più, ci sono delle regole per utilizzare queste carte con una doppia azione. Come vedete, qua giù ci sono delle carte, a differenza di quelle normali, che vi danno anche una doppia azione. Infatti, la cosa bellina che aggiunge questo gioco è la possibilità di utilizzare queste carte. Vedete, sono divise. Non c'è più scritto un'azione e un movimento, ma sono due azioni che potrete fare con la stessa carta. Quindi, quando questa carta la giocherete e la metterete nella classica sequenza, vi consentirà di fare tutte e due le azioni che sono segnate. Ovviamente, in questo caso qui ci fa vedere nel ponte C, nella zona C, e ci fa vedere che tipi di azioni posso fare. Queste sono azioni collegate a sparare i missili, quindi qualcosa di esterno per colpire caccia o navi in arrivo. Queste altre, invece, sono legate magari ai bot, ai robot, che potete usare a bordo della nave. Mentre quest'altro, invece, è più una cosa prettamente da console, da usare al computer. Quindi, vi ricordate, ogni ponte ha un suo computer con delle varie azioni. E questa è la cosa forse più carina che ho visto nell'espansione di New Frontier, perché, oltre a farvi utilizzare le carte normali che vedete qua giù, vi fa utilizzare anche queste carte con azioni doppie e vi possono salvare la pellaccia nel momento giusto, perché laddove vi potesse servire è un momento di fare due azioni in particolare con questa carta, che sono molte meno rispetto a quelle normali, perché sono veramente overpower, però vi consentono di fare due azioni invece che uno. E questa è più o meno la grande novità che c'è nell'espansione. Quindi, ragazzi, ovvio, ce n'è di carne al fuoco, non è una cosa veloce, così come l'ho fatta vedere comunque, anche per non farvi stare a rivedere un'altra partita, cose del genere. Per quanto con mia moglie sicuramente un gameplay ce lo faremo. Di cose ce ne sono tante che vengono aggiunte, secondo me anche molto belline, però più che nuove aggiunte, sì, perché ve l'ho detto, ci sono le carte degli incontri, le carte doppie e di specializzazione, perché fungono anche da carte di specializzazione. Cioè, di carne al fuoco ce n'è tanta, però non è di quelle espansioni, è presente, che la potresti giocare anche da te. Deve essere giocata per forza, o da sé. Deve essere giocata per forza col gioco di base, e va a rinvigorirne molto, perché quando io ho giocato a Space Aller, che ve lo dissi anche nel video passato, sì, è bello, però ti senti come se ci mancasse qualcosina, è uno dei miei giochi spaziali preferiti, però io personalmente ci avrei messo qualcosa di più. E forse questa espansione qui ci vuole per forza, e quindi consiglio di prenderle tutte e due insieme, perché mette veramente tante tante cose in più, e poi il sistema di progressione delle schede dei personaggi è bellino, perché forse era proprio quello che gli mancava, di dire, ok, il mio capitano, sì, ha preso questo achievement rispetto alla partita passata, però magari la partita passata l'ho finita in un certo modo, questa non era più un fatto di mero punteggio, invece che stavolta magari passi di livello, prendi delle abilità nuove, prendi la possibilità di usare più carte, oppure anche soltanto è un riconoscimento che fa vedere l'esperienza che hai acquisito e guadagnato nel corso di questa avventura. Molto rigiocabile tra l'altro, e secondo me quindi vale la pena di prenderla, assolutamente perché rinvigorisce molto, dai, butta nuova carne al fuoco, e secondo me è tanta roba che potremmo utilizzare per divertirci, però consiglio spensierato, finite prima il gioco base e poi giocherete la nuova espansione, le 10 nuove missioni che sono qui nel CD, buttandoci insieme ovviamente le carte anche del base. Ricordo che questa espansione non si può giocare da sola, è comunque collegata al gioco base. E secondo me ne può valere veramente la pena, e per quello che vado ad aggiungere a Space Alert, io gli do un bel 8 su 10, meritatissimo, e se vi capita andate a dare un occhio sul, ma tanto comunque vi metto il primo link in descrizione, comunque al loro sito, perché tante persone lo hanno adorato questo gioco, ma non sapevano che esistesse un'espansione. Ci sta, perché magari in Italia non è mai stata portata, quindi ci può stare che non la conoscessero, e poi nel caso fosse uscita, non mi sono documentato, chiedo scusa, ma mi sembra che non sia uscita questa qui in Italia. Gioco base sì, questo no. Quindi un bel 8 su 10, meritatissimo, e ancora una volta li ringrazio per avermi fornito una copia per la recensione, e ragazzi il primo link è in descrizione per acquistarlo, e tutti i link successivi, nostri social e quant'altro. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao, alla prossima!